mele, alcuno potrebbe non essere un problema. Ecco, questa era faccette staccate, centro assistenza, composito fluido, si riappoggia qua, si ringolla. Quando poi è il momento di tornare, queste si sostituiranno con materiali nuovi, definitivi. Basta semplicemente prenderle queste e riattaccarle al negativo di dove deve andare, l'alluncio e si rincolla. Qua cosa si vede? Ha strappato anche sopra, questo è strappo, non è taglio. I denti anteriori servono a tagliare, non a strappare. Ricordate sempre questo, perché non sono sensibili, questa è tutta roba artificiale. Non lo tagli, non lo tagli, ma non così. si morde, si taglia. La carne la tagli col coltello, la mastichi, ma non vai a strappare la carne. Ci sono movimenti che vanno corretti con le protesi artificiali, non puoi fare l'uso dell'arto artificiale dell'arto naturale, sono diversi. L'arto naturale è molto più flessibile, è performante, ci puoi anche mettere l'arto qua dietro, quella dei movimenti limitati, non è sensibile, flessioni limitate, materiale ceramica non c'entra nulla con lo smalto, con la dentina, con l'osso, il titanio che c'entra. Uno è un metallo, l'altro è osso vivo, mineralizzato, elastico, con collagene, è un materiale perfetto l'osso. La dentina, il dente, ammortizzato, l'impianto non è ammortizzato, è come una macchina senza ammortizzatori. Andiamo avanti. Ciao.